Tradurre in immagini e ad esempio in suoni, più difficile ad esempio per le sculture, però ci capiamo, tutto ciò che poteva essere distribuito, condiviso, scambiato attraverso la rete ha conosciuto una condizione di non scarsità, quindi di illimitatezza. Allora questo elemento pone una questione enorme, da un lato c'è l'aspetto che noi vediamo straordinariamente positivo di una moltiplicazione alla n delle possibilità di contaminazione e quindi di nuove combinazioni. E questo è evidentissimo, c'è tutto il lavoro che viene fatto in particolar modo dal mondo musicale e non tanto per lo scambio peer-to-peer ma proprio sul piano produttivo e anche nel mondo dei linguaggi espressivi per immagini che da questo punto di vista parla da solo ed è evidente. La questione che io voglio porre, e credo che dobbiamo iniziare a porci, se vogliamo che le questioni legate all'innovazione, alla governance di questi processi e quindi alle implicazioni legate alla società della conoscenza, come produzione di valore anche di valore economico, anche di valore finanziario, noi dobbiamo porre. Non basta un'articolazione di tutele. Questa è una cosa straordinaria che si è fatto con il lavoro dei Creative Commons o con il lavoro che ha fatto Richard Stallman con quella modalità di rovesciamento dei copyright a tutela dell'apertura. Tutto questo va benissimo, tutela autoriale, eccetera, eccetera. Il problema è chi paga, chi guadagna. Cioè il problema è che noi ci dobbiamo iniziare a porre attraverso il confronto di pratiche e attraverso modelli aperti e in qualche modo con un processo evolutivo che si danno, però dobbiamo iniziare a ragionare intorno ai modelli che in qualche modo prendono forma e che configurano pratiche, buone pratiche che dimostrano che è possibile creare valore, è possibile creare lavoro, è possibile creare imprese, è possibile creare retribuzione anche dentro a chiavi di condivisione e di apertura. Allora, questo io credo che sia una questione che non possiamo più evitare. Per essere molto chiari, vado ad un aspetto che in qualche modo è una precondizione per le possibilità di un'arte condivisa e aperta. Se le telecom, e non soltanto quelle italiane, le telecom mondiali dovesse essere chiamate a rispondere del loro indebitamento, ciò che è accaduto con la Lehmann e alcune altre banche, stiamo vivendo a pieno questa recessione della globalizzazione internazionale economico-finanziaria, sarebbe un'inezia. Eppure, tutti noi ritorniamo che l'accesso alla rete si configuri come un commos, quasi come una precondizione per questa produzione aperta dell'arte. Allora, per questo credo che non sia più un inviabile il fatto di porre attenzione a vedere come è possibile evitare le condizioni di precarietà assoluta per chi si mette in questa dimensione, o di lusso, che è l'altra faccia, per potersi mettere in questa condizione, o di fascia adolescenziale prolungata prima di diventare un professionista che fa carriera come artista, che sia musicale, figurativo o altro, un fotografo o altro. Questa questione, guardate che è una questione pesantissima, vale anche nel mondo della fotografia, chiudono agenzie, anche molto famose, con migliaia di fotografi in giro, a spasso, che vivono di questo. Il problema non è la gestione, quello è un problema dei sindacati, delle associazioni di rappresentanza, della transizione della crisi rispetto alla gestione di quelle imprese, di quei posti di lavoro. Il problema che ci dobbiamo porre è che modello proponiamo, dove arriviamo, cosa proponiamo in alternativa ai modelli costruiti sulla scarsità e agli atteggiamenti omeostatici che provano a produrre per via tecnologico, per via normativa, quelle condizioni di scarsità? Grazie, c'è qualcuno che si vuole attaccare a quello che diceva Fiorello, per fare il suo intervento? Prego. Senza attaccarmi al suo modello, Zoe ha detto tante cose, prendo tanti spunti delle cose che ha detto, però il mio intervento era, io sono Anna Masera, devo dirlo, Anna Masera, giornalista della stampa, responsabile del sito internet della stampa, ed è tantissimi anni che faccio il sito internet di un giornale, per cui l'ho visto proprio cambiare e attraversare tutte le fasi di internet 1, internet 2, web 2.0 e la crisi che c'è adesso nei giornali e volevo partire appunto dalla crisi, perché si parlava di nuovi modelli di business e di crisi, perché internet ha scardinato in modo di fare le cose, i processi anche industriali proprio, per cui nei giornali in questo momento, voi sapete, non mi soffermo tanto, poi se volete mi fate domande o se avete, perché secondo me molte cose le sapete già, però faccio un piccolo riassunto, in questo momento i giornali stanno per dichiarare lo stato di crisi in Italia e prepensionare tantissimi giornalisti, perché la gente non compra più giornali di carta, questo è un fatto, cioè oramai assodato, cioè li comprano molto di meno, sì, ma tu sei vecchio, no, comunque i giornali di carta fanno molta fatica, fanno molta fatica con internet ovviamente perché c'è una quantità di informazioni tale che non è più pensabile di avere il stesso numero di lettori che comprano il giornale e in più c'è in concomitanza, c'è una crisi degli investimenti pubblicitari spaventosa, perché le aziende con la crisi economica che c'è stata certamente non investono più nella pubblicità su carta come una volta, non solo, ma pretendono che costi di meno, quindi comunque gli introiti, i propri ricavi pubblicitari sono crollati e questo crollo concomitante con la crisi anche delle vendite ha messo i giornali in ginocchio, ma non solo in Italia, direi nel mondo, infatti in America, negli Stati Uniti lo sappiamo benissimo, non solo l'hanno licenziato, probabilmente da noi siamo, abbiamo delle tutele per cui ci prepensionano, siamo ancora abbastanza con i cuscinetti, aspettiamo che il governo firmi lo stato di crisi per poter avere tutte queste possibilità di queste tutele che ci ricattano peraltro, perché dovendo sperare nella firma del governo questa cosa, ovviamente i giornali sono molto morbidi nei confronti del governo che dovrebbero in realtà controllare senza pietà, siamo ricattati dal governo in attesa di avere questo stato di crisi per poterci tutelare. Nello stesso tempo però i siti interni e i giornali vanno benissimo, non è andata mai meglio l'informazione, cioè in Italia l'informazione giornalistica non è mai andata meglio, c'è una fame di giornalismo e di informazioni giornalistiche attendibili spaventosa, per cui non è affatto vero che c'è la crisi del giornalismo, c'è la crisi dei giornali, non del giornalismo, il giornalismo va benissimo, non solo, ma c'è una quantità di giovani che vogliono fare giornalisti enorme, come non c'è mai stata prima, e c'è una quantità di giornalisti enorme a spasso, per cui c'è una concorrenza, una competizione incredibile tra vecchi giornalismi e nuovi giornalismi, tra giovani e vecchi, per cui c'è un bisogno pazzesco che i vecchi colmino il digital divide e si attrezzino perché hanno una concorrenza qualità dai giovani e che i giovani imparino il mestiere dai vecchi perché i vecchi sanno comunque le regole del giornalismo che molti giovani non sanno e sparano scemenze in rete alla grande, senza citare le fonti, senza controllarle, per cui c'è tanta informazione poco attendibile, fatta male, perché proprio non sanno le regole del mestiere, perché è un mestiere comunque, è un mestiere che richiede pratica, che richiede esperienza e che umilmente richiede che qualcuno si metta lì a fare il praticantato, a imparare. Io non sono assolutamente una sostenitrice dell'ordine dei giornalisti o del fatto che bisogna essere in una corporazione, penso che sia un mestiere però da imparare, cioè negli altri paesi dove non c'è un ordine professionale c'è comunque la gavetta che si fa nei giornali e si impara, non c'è più questa cosa adesso, improvvisamente la gente va online, si apre il blog e fa il giornalista e si mette in concorrenza allo stesso livello con i grandi giornali e spesso tra l'altro dibatte con le notizie, i grandi giornali spesso usano questi blog come fonti per le loro notizie, perché spesso le notizie sceme vengono riprese alla grande, nei giornali tradizionali che non capiscono più, perché non conoscono il mezzo internet, non capiscono più che cosa è vero e che cosa è falso, perché spesso i giornali riportano con grande clamore cose che escono su internet assolutamente triviali e non da riportare perché sono una minoranza, ma le vedono allo stesso livello delle altre e pensano che sia dei grandi fenomeni, per cui si creano questi mostri di pagine con scritto su Facebook il gruppo nazista, magari sono tre pirla e chi se ne frega, per cui danno molta rilevanza alle cose su internet perché non conoscono internet i giornalisti e dall'altra parte però effettivamente c'è questo fenomeno di giornalismo web 2.0 assolutamente da prendere con le pinze e con le molle, quindi dobbiamo tutti imparare e siamo in una fase di grande confusione oltre che di grande crisi, sono richieste nuove professionalità perché io credo che le vecchie regole del giornalismo, l'ho scritto recentemente sulla stampa, da quando c'è Mario Calabresi come direttore abbiamo una nuova rubrica che esce tutti i sabati che si chiama La cucina dei giornali, che vi consiglio di leggere perché è carina, perché permette di capire cosa bolla in pentola e il pensiero e cosa succede dietro proprio nel fare, nella fattura dei giornali e mi avevano chiesto appunto di scrivere quali erano le regole del giornalismo, come cambiano nell'era di internet e ci ho pensato a lunga, alla fine le regole del giornalismo non cambiano, le regole di fondo sono quelle, le buone regole del giornalismo sono sempre le stesse, la cosa che cambia, c'è un ingrediente in più che bisogna conoscere i nuovi media, quindi bisogna colmare il digital divide per i vecchi giornalisti ma anche per i nuovi che arrivano, devono conoscere tutte le regole e in più, devono avere delle cose in più, devo sapere delle cose in più, sapere che c'è una concorrenza mostruosa in più che prima non c'era, che non è una categoria piccola dove c'è tanto spazio per tutti, ma proprio si sgomita per prevalere, cioè bisogna farsi sentire nel grande rumore, perché c'è un grande rumore, perché c'è tantissime informazioni da tutte le parti, tu devi emergere con la tua storia, raccontarla, saperla raccontare meglio degli altri per attirare l'attenzione sulla tua storia e poi bisogna sapere essere multimediani e interattivi, che sono due cose, due concetti vecchi come il cucco da quando esiste internet, però che stanno incominciando entrare solo adesso nelle redazioni dei giornali. Multimediani interattivi vuol dire sapere che se sei sul luogo della notizia devi avere il telefonino che scatta la foto e fa il video, perché oramai nell'era multimediale della convergenza non esiste assolutamente che tu scrivi il pezzo e basta e lo mandi in redazione il giorno dopo, quando una notizia sta succedendo in quel momento lì, siamo nell'era dell'immediatezza della notizia subito, deve essere in grado di scattare la foto e mandarla subito in redazione da pubblicare, perché chi arriva prima con la notizia sulla foto, cioè che vedi l'attentato, vedi il morto, vedi l'incidente, vedi quello che sta succedendo, vedi il tifone piuttosto che l'uragano, quella è la notizia, la vedi subito, la devi vedere subito. Poi puoi arrivare con l'approfondimento, ma le cose si sviluppano come se fossi un'agenzia stampa, prima si fa il lancio e poi si va avanti e si approfondisce. Questo deve entrare nella testa di tutti i giornalisti, invece i giornalisti si ritengono ancora nicchie privilegiate dove possono scegliere se fare il giornalista d'approfondimento, fare quello che fa il fotografo, fare quello, cioè li considerano categorie separate. Siamo nell'era della convergenza, il giornalista non può più separare le categorie, deve saper parlare alla radio il giornalista. Io tante volte al sito internet chiamo i colleghi che sono sul posto e gli chiedo un commento, mi fai un commentino audio, come se fossi la radio, ti registro, divento un mp3 e ti metto online, con quello che succede subito adesso, cioè un commento sul risultato elettorale in Germania, me lo devi dare adesso, non me lo puoi dare fra sei ore, quando oramai ce l'hanno già tutti, perché a quel punto noi non risultiamo più rilevanti, perché dobbiamo pensare che siamo in un luogo internet dove ci sono gli aggregatori di notizie che prendono le cose che escono per prime e che sono più cliccate perché sono arrivate prime e hanno più rilevanze per quello, perché la gente le ha trovate subito quando, perché la gente va su internet a cercare subito sul momento, no? Cioè succede una cosa grave, vogliono subito sapere cosa succede, quindi se tu esci subito sei più rilevante. E il giornalista mi dice, no sai non sono abituato a parlare, io scrivo, caro mio devi imparare a parlare invece, perché sennò non sei un giornalista completo, ti manca qualcosa, anche se hai 60 anni, se sei bravissimo e fai delle analisi profonde e meravigliose, però ti devi portare dietro allora un ragazzino che sappia parlare per te, non so, o se non sai parlare tu, se no impari, così come devi imparare a fare la foto e spedirla col telefonino oppure avere con te un tecnico, un ragazzo, un tecnologo, un ragazzino che è incapace a farlo, che è uno smanettone, ma insomma o impari o ti attrezzi. O appunto il giornale, siccome il giornale non ha i soldi oramai per mandare due o tre persone a fare la stessa cosa per cui uno scrive, l'altro, cioè non possiamo ne fare i carabinieri che uno legge e l'altro scrive e ne fare, come dire, quelli che hanno tanti soldi, possono mandare tanti corrispondenti, tanti inviati in giro, quindi dobbiamo stringere i denti e fare tutto, così come sui posti di lavoro oramai i manager, i dirigenti non hanno più la segretaria che discarica la posta, ma hanno tutti i blackberry e devono gestirsi la posta per cavoli loro, quindi è aumentata la mola di lavoro, lavoriamo tutti 24 ore su 24 nel tempo libero, perché le tecnologie rendono possibile questa cosa e siamo tutti più schiavi del lavoro, ed è vero, è così, l'arrivo di internet ci ha dato grandi opportunità, ma ci ha anche messo in condizione di dover lavorare di più, perché c'è più concorrenza, perché c'è più da fare, perché tutto è più di corsa e alla fine il risultato è che si lavora di più, si guadagna di meno e questo dobbiamo mettercelo via. I giornalisti che hanno la pretesa di essere ancora la corporazione è privilegiata, dove con calma vanno alla conferenza stampa, si fanno il banchetto, poi dopo vanno a fare shopping, alla sera scrivono il pezzo e domani esce, no, non va bene, cioè sei morto se fai così, e non a caso i blogger poi invece vanno avanti, perché il blogger è veloce e già lì fa subito il suo wiki, manda subito l'aggiornamento con Twitter ed esce prima, quindi hai la concorrenza di quelli e poi non puoi lamentarti il giorno dopo se sei stato superato. Quindi nei giornali finalmente ci si sta accorgendo di questa cosa, ed è un grande passo perché io vengo qui a RGF da tanto tempo, ho poco tempo, faccio veloce, quindi insomma rispetto già all'anno scorso le cose sono cambiate, l'anno scorso ancora questa consapevolezza secondo me non c'era nei giornali, adesso c'è perché sono arrivati i preposizionamenti e li mandano a casa, cioè io ho una lista, i giornalisti che mi hanno chiesto di venire a lavorare alla redazione internet, prima nessuno voleva venire a internet, la consideravano una redazione di serie B e quindi sono molto contenta perché penso che finalmente si sia rendendo conto che internet salve giornali, non è vero che è un concorrente, cioè fino adesso nelle redazioni dei giornali internet era visto come un concorrente antipatico che cresceva, andava bene, però non guadagnava soldi e quindi se non guadagna soldi che cavolo vogliono questi di internet, siamo noi quelli che portiamo veramente i soldi a casa, dicevano. Però adesso che i soldi a casa è vero che li portano ancora loro, perché comunque ragazzi internet è vero che non guadagna soldi rispetto al giornale, però se si guardano i grafici, cioè la carta sta scendendo in maniera pazzesca e internet sta salendo in maniera pazzesca, quindi è verissimo che c'è difficoltà a trovare un modello di business, però le cose che ha detto Mardoc sui micropagamenti, sulle news si stanno prendendo in considerazione. Io vi annuncio l'anteprima qui che noi entro fine anno, quindi prima di Natale, usciremo con delle news con micropagamenti. I micropagamenti vuol dire che non è che non daremo più il giornale gratis, ci sarà sempre una parte del giornale gratis, il giornalismo online gratis ci sarà sempre, però quei contenuti premium, tra virgolette, del giornale cartaceo che sarà messo anche online, se è messo online in tempo reale, la mattina presto e reso fruibile bene sull'iPhone, sull'ebook, su tutte le varie piattaforme in maniera facile e semplice, con micropagamento 10 centesimi sarà possibile. Incominceremo col buongiorno di Gramellini, poi il buongiorno di Gramellini lo metteremo comunque nel pomeriggio gratis per tutti, però chi lo vuole subito e lo vuole fruibile sul telefonino piuttosto che sul lettore ebook se paga e dovrà farsi questa cosa. Quindi questa è una cosa molto importante e nuova che faremo. Io non credo molto nei micropagamenti perché penso che non tutti abbiano il nome di Gramellini alla stampa, perché non penso che tutti vogliano comprare le notizie generaliste, penso che ci siano solo alcuni contenuti che si possono fare, incominciamo a fare questo e poi vedremo cos'altro ci sarà. Per le altre cose mi riservo di parlare più tardi, volevo solo dirvi un'ultima cosa. Io penso che nei modelli di business ci sia sì micropagamenti ma ci sia anche la pubblicità. Io sono una grande sostenitrice di Google News perché per noi Google News è un aggregatore di notizie, sono una fonte di audience perché la gente ci clicca di più grazie a quello. Quindi trovo assurdo che la figa abbia fatto questa causa contro Google perché francamente essere aggregati è un privilegio e io ci tengo, io ho lavorato tantissimo per essere aggregata in questo modo con le parole chiave per imparare a conoscere come funziona Google News perché penso che quello sia per una fonte, il 30% del nostro accesso arrivano da quello e ci porta pubblicità perché è uno sharing di pubblicità. Tutti gli altri giornali, non so se avete visto, in fondo gli articoli hanno scritto riproduzione riservata. Noi siamo l'unico giornale che ancora non lo mette, la stampa non lo fa anche perché grazie a un accordo che abbiamo fatto con Creative Commons tre o quattro anni fa, sono riuscita a trascinare Stefano Rodotà e John Elkan a presentare Creative Commons a Torino e abbiamo fatto un accordo per mettere in Creative Commons gratis online tutto l'archivio di TuttoLibre e TuttoScienze per le scuole. L'idea era per le scuole, però in realtà li ho un po' fregati perché in realtà ovviamente tutti poi possono accedere se è tutto libero. Detto questo abbiamo fatto questa cosa e dopo questo accordo è stato bello perché devo dire non se la sentono, l'editore non se la sente e ne aggiunge la parola riproduzione riservata in fondo all'articolo. Speriamo di resistere, di stop e stop. Grazie, è stata bravissima, è proprio quello che mi aspettava. Complimenti. No, no, per una domanda su questo. Perché poi lei ti deve rispondere. Vabbè, la faccio dopo. Se non ti rispiace, è un intervento. Simona Riprendi chiedeva di parlare a lui dopo, Anna Masera. Io penso che sono persone molto educate, quindi è un po' autogestita la cosa, non va aspettare che mi metto di affare proprio in pittina, eh? Vai, 5 minuti. 10 minuti, 10 minuti. Chiedo di parlare subito dopo, Anna, perché ha toccato uno degli argomenti di cui mi sto occupando un po' io in questo momento, adesso vabbè, io vengo qua in veste di Copyleft Italia, che è il progetto di divulgazione che ho in piedi da un po' di tempo, che non è altro che un sito internet, è una serie di attività che io gestisco personalmente, fra cui libri e filmati che trovate online, dopo magari vi do una brochure, però devo ammettere che sono un po' stufo anche di andare in giro a spiegare come funzionano le licenze. Serve anche questo tipo di lavoro, lui una volta mi aveva chiamato Copyleft Evangelist, mi ricordo questa cosa, che apprezzo, nel senso che è vero, c'è ancora gente che non sa cosa sia il Copyleft, non sa cosa sia la Creative Commons e quindi bisogna andare nelle associazioni culturali, nelle scuole, così, a raccontarlo e io lo faccio volentieri. È vero è che appunto, da punto di vista giuridico, il fenomeno è ormai noto, cioè l'ho detto anche Fiorello, cioè siamo, che esiste il modello Copyleft è già da Stalman, quindi dagli anni 80, nel Creative Commons è dai primi anni del 2000, quindi ormai che funzionano e come funzionano si è capito. Forse per i giuristi il test vero sarà avere delle sentenze di riferimento, io sono uno di quei sostenitori, di quei, diciamo, fautori della teoria per cui se non ci sono sentenze è già sintomo che il modello funziona, che vuol dire che non c'è stata esigenza di andare in giudizio, quindi questo modello di autogestione dei diritti si basa su un controllo sociale condiviso abbastanza funzionante, poi vedremo appunto i giudici come risponderanno, però adesso appunto sto cercando di ampliare un po' il mio campo d'azione perché sto facendo un dottorato di ricerca che è sociologico fondamentalmente, non strettamente giuridico, per capire le dinamiche sociali e culturali che stanno dietro a questi fenomeni e non solo il discorso del copyleft, del licenza gratis commons, ma in generale del diritto d'autore, perché andando in giro a fare questi incontri di divulgazione sul copyleft mi sono reso conto che il difetto di consapevolezza che c'è all'interno dei giornalisti è generalizzato ed è non sul copyleft ma sul diritto d'autore, cioè sull'ABC, sulle prime cinque pagine del manuale di diritto d'autore ed è abbastanza disorientante perché appunto io mi trovo a dover parlare di questo fenomeno che è a pagina 200 del manuale di diritto d'autore se esistessero dei manuali che parlano di queste cose e mi rendo conto che le persone a cui parlo sono a pagina 2 e quindi io ogni volta devo fare, se ho due ore di tempo, la prima ora e mezza mi va in premessa e poi mezz'ora va via a spiegare come funziona la licenza che è talmente banale, apre il sito di gratin commerce, fa vedere le 6 licenze, questa serve a questo, questa serve a quello, cliccate la faccina che vi interessa e poi la capisco il problema è che c'è un difetto di consapevolezza alla fonte sulle dinamiche del diritto d'autore su che cosa sia la proprietà intellettuale, sul discorso che è una finzione per creare una scarsità che invece in realtà nel digitale non c'è, infatti la gente fa fatica a capire questa cosa proprio per quello che diceva Fiorello prima, non lo percepiscono, dicono ma perché, perché se possiamo ormai col digitale avere copie di vario tipo, restringere i tempi, restringere i tempi di distribuzione, mi ricordo quando, insomma io ho 30 anni, quando un ragazzino io ero fan dei Queen, andavi a cercarti nei negozi la versione giapponese di un CD perché aveva un brano in più, cose che adesso sono impensabili, adesso fanno uscire i film al cinema allo stesso giorno in tutto il mondo perché se già è sfasata di due settimane la cosa, il paese che arriva dopo è svantaggiato perché la gente ha già la copia digitale, pur pirata e di cattiva qualità perché magari ripresa al cinema però intanto hai già perso quel treno. Il problema è che siamo in mezzo a queste due forze contrastanti, gli operatori del settore, cioè i produttori di cultura che sono ben consapevoli di queste dinamiche ma fanno finta di non saperle perché cercano di ancorarsi ancora ai vecchi parametri. Dall'altra parte gli utenti che non hanno consapevolezza teorica della cosa ma si trovano ormai a convivere tranquillamente con questi paradigmi e se cerchi di fargli capire che non dovrebbe in teoria essere così rimangono un attimo disorientati perché ma come? Ma perché devo andare in un negozio a comprare una cosa quando io faccio clic e tre secondi dopo ce l'ho gratis ed è difficile entrare in queste dinamiche, spiegare cosa, cioè tra l'altro alla fine la gente che ha un livello medio cultura sa che certi comportamenti sono illeciti dal punto di vista della legge però vede anche che sono talmente diffusi e talmente comuni che vengono perseguiti come cosa normale, no? Cioè il fatto di, non so, adesso un pezzo della mia ricerca dottorato sarà proprio fare dei sondaggi sull'agente comune quindi non operatore del settore per capire se hanno una base di senso di colpa nel momento in cui scaricano un film, cioè prima vabbè prima per chiedere se hanno, se sanno che un comportamento è illecito o meno, nel momento in cui ti rispondono sì so che il comportamento è illecito allora perché lo fai e se lo fai hai un forno di senso di colpa e so già che la maggior parte mi dirà ma no perché tanto lo fanno tutti e questa è una branca della sociologia del diritto abbastanza sviluppata ma non sul diritto d'autore, cioè si è parlato di queste cose nel settore delle, ad esempio della legalizzazione delle droghe leggere, no? Il fatto che certi comportamenti vengano stigmatizzati della legge ma poi accettati ormai normalmente anche dai giovani ma anche dai meno giovani e quindi si crea questo scollamento fra la realtà sociale e il dato normativo, cioè la norma dice che una cosa non si può fare ma invece tranquillamente poi viene accettata. I giudici devono cercare di contemplare queste cose perché i giudici in generale chi opera nel diritto perché poi se no si creano veramente delle situazioni neurotiche, nel senso che se, lo dice anche se parlate con qualcuno della polizia postale o della guardia di finanza, sono i primi ad ammettere che se dovessero controllare ogni download così dovrebbero avere più personale addetto a cercare il ragazzino che scarica file e sarebbe controproducente per il sistema, nel senso che tu vai a tutelare un interesse economico e per tutelarlo devi investire più soldi di quelli che poi recupereresti, si va in queste situazioni veramente devrotiche, cioè io non entrerò penso nella mia ricerca molto nelle soluzioni, cioè a me interessa mettere a fuoco il problema, perché poi non sono io umile dottorando di ricerca a dover proporre delle soluzioni, sì metterò giù delle ipotesi probabilmente ma sono tante, nel senso che la teoria del flat, di avere di pagare un flat è già da anni, però come vedete non parte, nel senso che anche lì, perché? Perché c'è una differenza di fondo da parte di chi poi ne deve usufruire, deve usufruire di questo servizio, di questo modello. Il modello copyleft aiuta, nel senso che è uno spiraglio, da un po' di aria a quei creativi che hanno consapevolezza e vogliono mettere in condivisione, però non sta ancora creando il modello di business alternativo, nel senso che come diceva Fiorello sempre appunto di open source, se ne parla ormai da anni, però in informatica la cosa può funzionare perché c'è un discorso diverso, cioè il discorso dello sviluppo informatico su software libero è diverso dal creare una canzone o il creare un libro, un romanzo, cioè capisco che per il creativo che vive solo della creatività e non della competenza sullo sviluppo, il problema si pone. Io questa cosa la percepisco anche un po' perché, vabbè, a parte che io scrivo i libri sul copyleft, ma poi io sono anch'io per passione un musicista, un giornalista, un scrittore, scrivo cose di vario tipo, ma io non ho problemi a mettere le cose in condivisione con licenze perché so che non è quella la mia fonte di reddito principale e non lo sarà mai probabilmente, ma quando mi vado a queste conferenze in cui arriva il musicista, lo scrittore, magari che è emergente, che però vuole fare quella cosa come lavoro, o il giornalista anche appunto, ti scontri con questa realtà del fatto, ma io che cosa mangio? E appunto cercherò di dare, la mia idea è quella appunto di fare anche una parte della mia ricerca su invece gli operatori del settore, però non chiedendogli le solite cose, come vuoi tutelare, perché si sa già, gli strumenti sono quelli classici del diritto autore, ma è come intendi, come percepisci questi nuovi fenomeni e sono curioso anche io di vedere perché non ho mai fatto questo tipo di cose, infatti le sto, devo imparare anch'io, mi sono studiato un po' di metodologia della ricerca, un po' di cose, mi affiancherò a colleghi probabilmente che in università venendo dalla facoltà di sociologia, di ricerca sociale, di statistica, sapranno come si fanno e sono curioso di vedere, nel senso che poi probabilmente farò girare anche qualcosa online per vedere se qualcuno di voi anche in tutta Italia mi darà qualche feedback. Però ecco, è l'occasione anche questa per raccogliere un po' di idee, di spunti sulla direzione da dare alla cosa, perché potrebbe essere una delle prime ricerche che studia il diritto autore così come fenomeno sociale, non come fenomeno strettamente giuridico, perché appunto è una cosa abbastanza nuova, fino a dieci anni fa il diritto d'autore era materia dedicata strettamente, prettamente a editori, autori, tra l'altro non tutti gli autori, ma gli autori professionisti che facevano quello di lavoro e i legali che li seguivano. Adesso è diventata materia di tutti, perché chi ha un blog, chi ha Facebook, chi ha un account su MySpace, un pochettino il dubbio comincia a porselo. Però, se andate a chiedere alle persone, nessuno si è mai interessato, nessuno ha mai letto i termini d'uso completi di Facebook, se non chi per mania particolare, un legale o chi si occupa di queste cose, si è interrogato. Quindi anche qui c'è una sorta di scollamento dal punto di vista della consapevolezza delle persone che usano questi strumenti. Vogliono saperne, però poi non dedicano quei cinque minuti per informarsi. È un peccato. Grazie Simone. Io volevo chiamare Luciana Castellina a parlare a questo punto, se puoi alzarti. Prego Luciana. Luciana Castellina forse la conoscete già tutti quanti, parlamentare per più di vent'anni, già presidente della commissione europarlamentare sulla cultura, scrittrice, fondatrice del manifesto, insomma. Per consolarti un dato che può interessarti sulla percezione è che anni fa al congresso dei magistrati brasiliani hanno fatto una piccola indagine e hanno scoperto che il 75% era pirata. Quindi se avviene la percezione al congresso dei magistrati brasiliani ti puoi immaginare che cosa significa da questo punto di vista. Ma io volevo prendere il termine cultura in un altro modo. Cioè invece di parlare dei prodotti culturali, parlare della cultura che è prodotta dal digitale. Perché se ne parla poco? Perché in realtà quando è cominciato il dibattito sulla società dell'informazione questo dibattito è stato guidato ed affidato agli ingegneri, vale a dire al momento tecnologico e pochissimo si è parlato e si è pensato sugli effetti socioculturali che questo avrebbe provocato. Tanto più con la tutta evidenza che non è la tecnologia che detta il modo di orientarsi alla società ma il modo come questo si introduce nei rapporti sociali di produzione. Se penso a come la cosa è nata in Unione Europea tutto è stato affidato. Ci si è preoccupati inizialmente dell'ARD addirittura. A noi credo che il commissario Bangeman che era commissario occupato della società di informazione pensasse che le information highways fossero fatte di cemento armato. Credo che questo lui fosse convinto di tutto questo. Meglio negli Stati Uniti dove Gore invece mise su un forum con una rappresentanza di casalinghe, sindacati e quant'altro per discutere tutto questo. Io vorrei esporre alcune perplessità che ho su questo e forse potrò sembrare anche essere equivocata in tutto questo. Mi ha molto colpito quello che dicevi tu adesso. Hai detto a me come creatore che cosa mi pone? Hai subito parlato chi mi paga. A me quello che mi colpisce è che ci sia così poco interrogarsi da parte dei creatori di che cosa succede a me come creatore, come artista, come si modifica la concezione stessa dell'artista nel momento in cui c'è l'interattività e nel momento in cui tu hai una tendenza che è quella ormai generalizzata di non voler essere più fruttore passivo del prodotto culturale che mi viene offerto, musica, cinema, audiovisivo, quello che è, ma di volere invece di pretendere di avere il diritto di metterci le mani, beh la mia soggettività di artista e di creatore, di regista e musicista, che cosa succede? A me mi colpisce che tutte le volte si parla di questo si finisce a parlare sempre su chi mi paga, che è importantissimo, figurati se non è importante, ma è ancora più importante il resto. Per cui hai dei mondi completamente separati, nel senso che di questo non si parla. Io ho dei dubbi su cosa significa, perché per un verso capisco benissimo che l'interattività significa, l'interattività, le nuove possibilità di espressione che ci sono, eccetera, creano una straordinaria ricchezza espressiva, creativa e anche artistica, che si ampli a tal punto il ventaglio delle possibilità che lì troveremo venti danti alleghieri che altrimenti non sarebbero mai venuti fuori. Però anche altrettanta preoccupazione di quella che Vattimo ha chiamato l'assordante babelismo e poi babelite, assordante babelismo. E questa insopportabile, narcisistica proliferazione dei diari pubblici. Ieri mi pare che Rodotato diceva questo iper svelamento di se stessi. Però resta appunto che cos'è oggi l'autore? Che cos'è l'artista? Boh, bene, male? Tutto questo? Cioè per un verso un bene, per un altro male? Non so cosa succede. Altra perplessità che ha sul tipo, dicevo, di cultura prodotto da internet. Non vorrei essere equivocata. Io credo, ho molta perplessità quando sento parlare del diritto all'anonimato. Perché l'anonimato è anche, come dire, se divento un mito diventa anche una cosa che mi lascia molto perplessa. Allora, d'accordo con voi, non esiste problema su questo, su una necessità di garantire il diritto all'anonimato. Non ho nessuna ossessione securitaria. Se pongo questo problema è perché sento il rischio della solitudine dell'anonimato. Cosa voglio dire? Ciò che rende anonimi oggi non è la non tracciabilità, ma l'annullamento del tempo, dello spazio. Cioè la cosa più grossa che oggi accade è che non c'è più il mondo ben ordinato da spazi definiti entro cui esistevano delle solidarietà. Oggi tutto questo, perché erano quelle delle comunità, delle nazioni, eccetera, tutto questo non c'è più. I poveri restano confinati al massimo del localismo, i ricchi possono comunicare con il mondo intero. Ecco, questa perdita del senso dello spazio a me mi preoccupa. Io vorrei fare una campagna per salvare la geografia, per dire no, badate, un paese sta lì, un paese sta là, che cos'è questa roba dentro la quale mi perdo. Allora, si è parlato molto ieri della storia della famosa barzelletta del cane. Io capisco benissimo che è quello che dice il cane, che è bello di internet, che nessuno sa che sono un cane. Non sa se sono donna, se sono uomo, se sono bello, se sono brutto, se sono giovane, se sono vecchio, se sono giallo, se sono nero. È meraviglioso. Mi sono liberato dalle costrizioni del mio villaggio, del mio quartiere, del condominio, della famiglia e persino del mio corpo. È la libertà. Ecco, io ho una grande paura di un'equivalenza fra anonimato e libertà, perché così creo, rischio di creare un mondo di clandestini. E se la libertà deve essere il mondo di clandestini, diventa anche il mondo degli irresponsabili, perché io sono buono o cattivo in base a dei valori che ho mutuato da una precisa collettività. Allora, in internet ho questo paradosso, che ho una ipervisibilità che è ricercata e dall'altro invece l'idea che essere anonimi significhi in qualche modo essere liberi. E quindi, vorrei che si potesse discutere di più di queste ambivalenze, che sono per un verso, è strano perché l'anonimato porta al massimo dell'individualismo, perché di questo poi diventa. E poi però è vero anche che in rete si sono prodotte altre culture, il comunismo della conoscenza, la condivisione, l'economia che viene prodotta. Un'ultima osservazione riguardo invece alla cultura politica che ha prodotto internet. Anche qui ci sono delle cose interessanti che dice Koselec a proposito del rapporto con il tempo e adesso per non farla lunga, ma insomma la conclusione è che non solo si annulla lo spazio, si annulla il tempo, ma questo annullamento del tempo rende tutto contemporaneo e se rendo tutto contemporaneo non ho più passato, infatti non c'è mai stata una generazione come questa così totalmente indifferente a sapere cos'è il passato, la rimozione del passato. E però di conversa, e questa è assai più grave, così meno impegnata a progettare il futuro. E la progettualità del futuro non c'è più perché in fondo tutti i futuri sono, come dire, possibili e in qualche modo anche intercambiabili, no? Non c'è più aspettativa, c'è una specie di catalogo dei possibili futuri dai quali posso attingere come in un negozio, come al supermarket. Ecco, questa cultura di internet ha prodotto in qualche modo anche un modello democratico alternativo e questo io proprio invece lo considero abberrante e vorrei che ci fosse una reazione a tutto questo. E cioè, che è molto quella la cultura, finisco subito in un minuto, che è molto la cultura politica americana, che io credo abbia avuto effetti devastanti in Europa. E cioè l'idea, la sacralizzazione dell'opinione pubblica, la verità è quella che è data dal sondaggio, dal referendum e non c'è più la costruzione di processi collettivi di apprendimento comune. La diffidenza profonda per ogni forma di delega, che non è però sostituita da forme consolidate di democrazia diretta, è l'atomizzazione della società, un assemblaggio di moltitudini attraverso i sondaggi, ma che è una massa di individui. Mi colpisce sempre, il 68 è nato come critica alla società di massa e la generazione successiva è ricaduta nell'idea di una massa di individui, che è quasi peggio che la società di massa. Ecco, tutto questo mi pare che quello che viene fuori da tutto questo è che la politica è diventata sempre di più la ricerca del consenso anziché quello che dovrebbe essere, e cioè lo strumento della costruzione di senso, che ovviamente in questo modo non si può fare. La costruzione di senso presuppone, scusate il carattere antico di quello che dico, ma la costruzione dell'intellettuale collettivo, come parlava Gramsci con tutto quello che ne consegue, eccetera. Ecco, io penso, per carità di Dio non è che voglio dire allora chiudiamo la rete, però che una riflessione su come tutto questo, io credo che all'origine anche, come dire, del berlusconismo ci sia anche questo, cioè questa sacralizzazione del sondaggio dell'opinione pubblica, eccetera. Perché se io cerco consenso, che cosa devo fare? Produco le idee che mi danno il consenso e poi interrogo e non posso trovare che lo specchio. Credo che tutti oggi vorrebbero essere come Berlusconi perché quelli sono i valori che sono stati prodotti. Se invece è che la crisi della politica che oggi viviamo e la antipolitica è una cattiva politica e si è smarrita l'idea della politica come costruzione di senso e di progetto di trasformazione per il futuro. Queste sono le mie perplessità. Grazie Luciana Castellina. Ci sono altri interventi programmatici, c'è Tommaso Tozzi che mi invito a venire. Poi ci sono le allienze invisibili già programmati, Francesco Potortì programmato, poi chiunque vuole parlare si mette in fila, certo. Mi chiamo Tommaso Tozzi, come ha detto Arturo, sono docente presso l'Accademia delle Belle Arti e l'Università degli Studi di Firenze, oltre ad essere il coordinatore della Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte presso l'Accademia delle Belle Arti Carrara. In questa breve lecture, se ce la farò nei tempi previsti, cercherò di presentare come naturale sbocco di un percorso della storia dell'arte, l'idea che il partecipare a progettare, creare e sperimentare nuovi modelli di comunicazione tecnologici che presentino la caratteristica e l'open content, possa essere considerata una possibilità tra quelle che un artista oggi può scegliere di mettere in opera. A tale scopo presenterò anche il sito WikiArtpedia, da me ideato e coordinato. Però prima di procedere nella lettura, volevo provare a entrare nel merito di un paio di interventi, quello di Fiorello Cortiana, le domande chi paga e chi guadagna. A costo di essere banale e ingenuo, la mia risposta è lo Stato, a cui vorrei aggiungere che l'osservazione è che la maggioranza, secondo me, dei contenuti di Internet sono volontari e non pagati. E quindi bisogna tener conto del fatto e bisogna garantire la possibilità che ognuno possa continuare a poter esprimersi senza il dovere di dover chiedere una corrispondenza in denaro per l'inserimento di contenuti in Internet. Cambia lo statuto dell'artista, l'ha detto anche Luciana Castellina, cambia lo statuto dell'opera. Io, la mia esperienza, io vengo qui non solo in funzione di professore, ma io nasco come artista e quindi voglio portare la mia esperienza. Io fino al 1996 facevo l'artista in galleria d'arte contemporanea, facevo progettazione di prodotti multimediali. Ho iniziato a fare il professore, ho cambiato lo statuto del mio fare arte, lo statuto come artista e la mia opera. Non mi rivolgo più a un committente privato, perché in Italia l'arte contemporanea è in mano alle gallerie d'arte e collezionisti, gallerie d'arte e collezionisti. In Francia è in mano ai musei e quindi c'è un differente approccio. Qui si deve stare al ricatto di chi finanzia, quindi al privato che finanzia. Io ho fatto la scelta di farmi pagare dallo stato e la mia opera è diventata un qualche cos'altro che riflette l'idea secondo me di un'opera, che adesso proverò a descriverla anche nella lecture, ha dei contenuti aperti e il cui contorno è dilatato, cioè non si può identificare un semplice brano musicale, ma bisognerebbe prendere tutto l'intorno che ci sta intorno a quel brano musicale. Io faccio contenuti, strutture e strategie, non faccio solo contenuti. Rispetto all'anonimato, al problema dell'anonimato io mi riconosco totalmente nell'osservazione della Luciana Castellina sul rischio che si identifichi l'anonimato con la libertà. Io sono di quelli che credo che una persona si debba accettarla per quello che è anche fisicamente e che quindi si debba avere il coraggio, si debba richiedere di accettare, di essere accettati una persona in toto e quindi non si debba. Detto questo non credo che l'anonimato debba essere considerato solo sotto questo aspetto, ma credo abbia delle forti valenze positive per la possibilità di usarlo come forma di identità molteplice, cioè un gruppo che si riconosca in un'identità unica, in un nome unico, oppure la possibilità che si usi all'equivalenza di una maschera e quindi come un gioco e quindi una forma di apprendimento come quella quando si gioca e ci si maschera. E quindi una possibilità che non debba essere solamente per nascondersi in un problema di immaginazione sociale. Nell'Ottocento l'arte viene intesa come un riflesso della realtà sociale, all'artista si chiede di rappresentare la realtà. In seguito all'arte spetta un ruolo impegno sociale, funzionale, funzionale dalla società è tesa a far affermare il modello di produzione scelto da una determinata ideologia. E allora cercherò di sintetizzare. Lo metterò a disposizione di Arturo che poi lo distribuirà. Allora, il passaggio qual è? è che da un'arte che viene intesa come un artista a cui si chiede di rappresentare la realtà si passa alla possibilità di essere funzionale a un modello di ideologia sociale. Costantemente si vede nella figura dell'artista la possibilità di una costruzione di desiderio. Il termine avanguardia, artista legato all'avanguardia, risale alla fine del Settecento, inizio del Settecento, a tutta una serie di socialisti utopici, Saint-Simon, Fourier, che affermavano che c'era una volontà di scoprire, sperimentare e rivelare nuove possibilità estetiche. Ci sono esempi nell'inizio del Novecento, in Tatlin, che crea il monumento alla terza internazionale, nel 19, in cui fa il progetto di una cosiddetta torre proletaria, che era un luogo aperto in riunione, scambio informazione e comunicazione, oppure Walter Gropius che progetta un total theater, dove non c'è confini tra le varie arti. Si vede, se si legge il testo di Matt, l'art, si vede che c'è in qualche modo sempre la speranza che le nuove tecnologie possono favorire la creazione di una comunità planetaria. Negli anni 50-60 nasce un tipo di arte legata a Eppening Fluxus, che è aperta, c'è Umberto Eco che scrive il libro Opera aperta, in cui c'è una nuova dimensione dello spettatore partecipatore. L'utopia californiana risente del concetto immaginazione al potere del 68, intorno a quello si sviluppa la crescita dei mezzi telematici. Sono costretto a saltare. Ci sono tutta una serie di passaggi in cui i primi artisti che sperimentano l'utilizzo del mezzo telematico nell'arte, dall'inizio dell'82, fanno una serie di affermazioni come Robert Hadian, in cui chiedono che ci sia un utilizzo artistico dei mezzi telecomunicazione, che questo implica nuove modalità di percezione di chi vive all'interno degli spazi progettati, delle reti telematiche, che l'artista deve favorire il fatto che si possa costruire spazi nuovi che aprano le possibilità di percezione della realtà. Quindi l'artista diventa un architetto di informazione, qualcuno che cerca di progettare un nuovo modello di spazio. Continuano quindi le richieste degli artisti, come Roy Ascot, Fred Forrest, in questa direzione, e a chiedere un'idea di opera diversa. In questa logica ho ideato e coordino al 2004 Wikiarpedia, che è un analogo di Wikipedia, però è un'enciclopedia dell'arte delle reti e delle culture digitali, che quindi ha quello come contenuto specifico. Ha ricevuto un honorary mention al Festival di Arte Elettronica del 2009, nella sezione Digital Community. Cos'è che sta alla base di questo progetto? Promuovere uno spirito di partecipazione orizzontale del cittadino alla creazione dei saperi e alla difesa del concetto libero e della diffusione dei saperi stessi. Arte, in questo senso, diventa il documentare e conservare la memoria e favorirne l'accesso e la distribuzione, che sono, a mio avviso, uno degli aspetti più essenziali per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'umanità. I contenuti sono realizzati in gran parte dai miei studenti, dai miei corsi, a Firenze e a Carrara. Circa 500 ci hanno partecipati, ma chiunque può inserire una nuova voce, come in Wikipedia, a modificare un'esistente. Il sito è attualmente una media di 1.500 accessi al giorno e contiene circa 12.000 voci relativi a soggetti, opere, testi e argomenti che riguardano l'arte e le culture digitali. È uno sbocco naturale di una serie di progetti che io ho iniziato a fare dagli anni Ottanta, e in particolar modo con le BBS, e in questa esperienza ho maturato l'idea che è essenziale che l'accesso ai nuovi strumenti della comunicazione telematica sia libero per tutti e senza costi. E questo riflette in particolar modo qui in Italia un principio e un diritto di tipo costituzionale. Così come è essenziale che il cittadino possa partecipare alla creazione e modifica dei saperi di tipo pubblico, secondo un processo che rifletta un accordo di tipo comunitario ed egualitario. È in mia opinione dunque che vi sia una libertà di copiare e diffondere i saperi stessi da parte del cittadino. E per garantire tali aspetti Wikipedia utilizza lo stesso sistema media wiki della ben più nota Wikipedia e le licenze creative commons che tutti conosciamo. E qui ho concluso. Scusa? Che lingue è? Italiano, ma c'è un progetto che io in questo momento ho presentato all'Accademia di Firenze in cui lavoro al Conservatorio Firenze all'ISIA di fare un progetto che è stato già approvato a queste tre istituzioni e ora si presenterà al Ministero che prevede il fatto di iniziare a fare la traduzione in lingua inglese delle voci principali, soprattutto quelle che riguardano le voci italiane. Grazie al professor Tozzi, è stato perfettamente nei tempi c'era il collettivo Le Lienze Invisibili io non lo so pronunciare che sono una capra in francese ripetete voi il vostro nome e presentatevi in un minuto come volete mi alzo io Buongiorno a tutti io faccio parte del collettivo io e Jonathan facciamo parte del collettivo artistico Le Lienze Invisibili e vabbè diciamo qua diciamo siamo una realtà molto laboratoriale che si occupa di arte orientata alla dimensione della rete mi fa piacere che siano emerse diverse posizioni su cosa è arte nell'epoca della rete perché in effetti quando sentivo parlare prima di artisti visivi musica che sono problemi giusti che si pongono in realtà noi ci siamo mossi in questa dimensione un pochino al di là e abbiamo fatto della rete non tanto il supporto artistico quanto proprio l'oggetto di riflessione in cui ci muoviamo e questa ricerca è iniziata anche con l'inizio di quello che è stato il boom dei social network o del web 2.0 e beh diciamo la convinzione che ci muove inizialmente principalmente è quella di non tanto di vedere la rete non tanto come un luogo un luogo di sicurezza e di certezze ma quello di anzi cercare nell'interazione tra l'utente nella user experience tra l'utente e la rete e le interfacce non una risposta certa ma anzi una risposta spiazzante quindi cercando di scardinare quelli che sono gli automatismi legati all'interazione tra utente e interfaccia questo chiaramente ha avuto diverse modalità ora quando ci sarà il tempo per affrontare tutto il il progetto nella sua complessità ma in realtà parleremo di una modalità particolare su cui abbiamo sperimentato molto quindi nell'ottica di scardinare quelli che abbiamo chiamato ora automatismi una modalità che ci è tornata molto utile e che non abbiamo certo inventato noi è quella del cosiddetto fake perché questo oltre a insomma essere molto divertente da raccontare pone anche dei problemi soprattutto qua in Italia su cosa sia realmente un fake e soprattutto su problemi di censura che poi vi racconterà più in dettaglio Jonathan allora il fake io non credo di dover stare a spiegare comunque sostanzialmente che cos'è è una copia non conforme di un sito istituzionale o non che diciamo per come lo interpretiamo noi ha l'obiettivo di spostare il significato dal appunto dal della rappresentazione mediata con cui siamo soliti interagire questo infatti il grosso nel nostro lavoro sta un pochino nel cercare di svincolare il concetto di falso e di fake da quella connotazione negativa che si porta dietro infatti si parla di soldi falsi si parla di bancomat clonati beh in realtà si fa il processo al termine fake senza in realtà fare il processo a quello che in realtà sono le intenzioni in caso mai o comunque l'obiettivo finale infatti in sostanza se ci pensiamo bene noi partiamo anche un po' dal presupposto che in realtà ogni forma di rappresentazione della realtà in cui noi siamo circondati da quella televisiva ma anche alla stessa rete di cui parliamo oggi ma anche la rappresentazione artistica e letteraria sono paradossalmente delle falsificazioni in quante non sono non coincidono in tutto e per tutto con la realtà che ci circonda ma sono racconti della realtà in quanto racconti quindi noi come artisti e quindi come persone che lavorano fanno della rappresentazione della realtà il proprio lavoro comunque la propria pratica è interessante trovare quelle zone di cortocircuito quelle zone di conflitto tra la rappresentazione artistica e la rappresentazione mediatica per esempio e il fake è la modalità con cui più ci siamo divertiti faccio un esempio molto pratico di un progetto che ci ha permesso di lavorare artisticamente su quest'idea di rappresentazione ma anche come dire di scavallare in un territorio più se vogliamo di attivismo di pratica attivistica il progetto è un progetto che abbiamo beh ce ne sono diversi poi uno in particolare ve ne parlerà a Jonathan però uno di quelli che ha avuto più respiro internazionale è stato lanciato lo scorso anno in occasione dell'Olimpiadi di Pechino periodo preceduto come ricorderete tutti dalla situazione in Tibet dalla repressione cinese della Cina e che comunque è stato in qualche maniera come dire non tanto nascosto comunque è passato in secondo piano rispetto al racconto che veniva fatto di queste Olimpiadi quindi in sostanza il nostro progetto in cosa consisteva? attraverso una serie di contatti che avevamo in giro per il mondo siamo riusciti a recuperare un dominio che era peching2008.com che era molto fraintendibile con l'originale Beijing 2008 questo cosa siamo andati a mettere dentro questo spazio? Siamo andati a mettere una copia in tutto e per tutto uguale del sito delle Olimpiadi solamente che non appena trascorsi pochi secondi o un click dell'utente compariva a tutta pagina un video che in realtà era una denuncia di quello che in realtà i media stavano nascondendo e quindi questo aumentava la percezione perché quella situazione calata in un servizio televisivo spezzettato come siamo abituati a vederli oggi noi messa invece in quel contesto dove uno si aspetta tutt'altro tipo di informazione l'impatto emotivo era molto forte e c'era un altro strato concettuale che ora stiamo a spiegare relativo a un nostro progetto precedente però in sostanza quello il fuoco di questo progetto oltre chiaramente all'intento di denuncia che porta con sé però era l'idea di occupare uno spazio dell'attenzione e di occuparlo con cosa? con un mezzo povero se vogliamo se vogliamo chiamarlo povero quindi scuottare occupare un dominio che è facilmente riconducibile io ricordo che Peking è facilmente nonostante che sia Beijing la capitale Peking è il modo comune con cui in occidente si fa riferimento a Pechino e per cui abbiamo avuto effettivamente una risonanza notevole anche in Cina dove ci interessava arrivare questo è un progetto a livello internazionale e che non ha avuto grossi problemi esatto sì altri altri progetti in ambito internazionale su cui abbiamo lavorato sono altri fake illustri abbiamo per esempio lavorato sul New York Times in collaborazione con gli Yes Men lo scorso novembre abbiamo lavorato anche con Greenpeace all'International Tribune che è stato distribuito a giugno anche in benedizione cartacea qua a Roma e invece in ottica nazionale ci siamo confrontati con realtà un pochino più locali un pochino più mirate ora nei giorni scorsi so che qua ha parlato o quantomeno è stato letto un intervento di Dalia che si è speso ancora una volta nell'argomentare la necessità di filtrare la rete adducendo motivi come la difesa del copyright e altre amenità ora esiste il dubbio io direi anche forse la certezza che si finisca per estendere poi questo filtro a tutte le realtà scomode anche artisticamente finendo poi per di fatto per uccidere la libertà di espressione in questo paese già adesso i provider italiani soffrono un po' di un eccesso di zelo nei confronti delle opere o comunque dei siti che sono ospitate in Italia questa è una causa che deriva dal nostro ordinamento giuridico che è particolare che non riesce forse a inquadrare bene ancora il media internet lo assimila sempre alla stampa alla televisione a qualcosa che è molto lontano poi dall'utilizzo che ne viene fatta noi ci siamo scontrati per esempio nel caso di una censura che era stata chiesta per un videogioco nel 2007 che parlava del documentario BBC sui preti pedofili americani ci siamo scontrati con una censura con l'onorevole Volontè Luca Volontè dell'Udc perché praticamente avevamo fatto un fake mirato in cui denunciavamo il suo intento oscurantista nei confronti di questo videogioco a sua volta questo sito ovviamente è stato oscurato non solo noi abbiamo il testo dell'ordinanza di sequestro preventivo del GIP in cui praticamente convalida il sequestro in cui parla per esempio di necessità di ottenere l'oscuramento e la rimozione del sito in considerazione della personalità di rilevo pubblico della persona offesa come dire che visto che avevamo toccato un politico era ancora più necessario ancora dovevamo praticamente doveva essere censurato il più in fretta possibile io dico che proprio perché uno è un politico magari è più esposto a certi tipi di critiche a certi tipi di attacchi e che comunque andare a chiudere in questo modo una critica è pur sempre una censura concludo grazie perfettamente nei tempi a questo punto volevo chiedere a Ioanne Maria Pini dell'associazione Partito Pirata di dare il suo contributo successivamente ci sono Francesco Potortì e Andrea Marchetti poi ovviamente chi vuole parlare alza la mano sapendo che alle 11 dobbiamo chiudere indelogabilmente Buongiorno a tutti io adesso avevo dato il programma alla nostra hostess da fotocopiare per distribuire Allora diciamo che io posso del Partito Pirata per non così lo diamo visto che anche Cortiana lo chiedeva io potrei mettermi vari cappelli io mi chiamo Ioanne Maria Pini io sono un insegnante di conservatorio qui posso essere come Partito Pirata posso essere come Isoc che anche ecco e io diciamo attendo che arrivi il programma del Partito Pirata prima di parlare ufficialmente a nome del Partito Pirata ma dico delle cose a titolo personale come ha fatto Tozzi che ho il piacere di incontrare dopo che conosco da tempo la sua opera io sono ignaro delle questioni giuridiche però io quando sento in questa terra incognita parlare di concetto di legalità io mi faccio una grassa risata perché dico ma per me il concetto di legalità non è altro che il supporto del potere di turno quindi io quando posso avere modo di fregare uno che normalmente frega a me con tutto l'apparato di toghe di legge di quant'altro io sono strafelice stracontento e c'è anche l'aspetto ludico quindi la percezione del ragazzino è altro che questa come di colui che è immarginato che è a parte e poi chi mi dà da mangiare ma ragazzi siamo in una terra incognita quindi una nuova forma di economia forse può nascere orizzontale reticolare magari abbinata a concetti di decrescita e poi sento i politici piangere ma chi ha distrutto la politica se non i politici esclude le persone per bene che ci stanno anche lì chi ha distrutto i giornali se non i giornalisti e poi piangono cioè avevo un suocero giornalista professionista del gazzettino insomma forse il fatto quotidiano adesso risponde a un minimo di aspettative della gente ma io che sono un po' più scafato non l'ho ancora comperato ecco e poi a me viene in mente la metafora principe cioè quando venne inventato il frigorifero i venditori di ghiaccio cambiarono mestiere punto quindi io trovo anche nel nostro terreno un sacco di persone che cercano di conservare se stesse e io sono un quasi sessantenne a volte molto più giovane dei miei alunni perché ho delle categorie di pensiero che sono attinenti alla ricerca della conoscenza ad un'evoluzione poi io sono felice di questo momento dell'informatica perché c'è di nuovo l'uomo al centro c'è stato un periodo nella quale dovevi essere quasi un informatico per metterci mano adesso tutto il lavoro sta sotto il cofano c'è un ottimo rapporto io mi occupo della cosiddetta informatica umanistica quindi io ho bisogno di una macchina che vada poi non devo mettere le mani nel carburatore al massimo devo devo non so io cambiare le gomme capito ecco e chi paga chi paga chi paga è al momento attuale secondo me lo stato punto la cultura deve essere un bene comune piantiamola io voglio che esca dalla vostra testa il concetto di mercato io voglio che esca dalla testa di coloro che si reputano di sinistra il concetto di sviluppo perché sentire queste persone che non parlano di decrescita ma parlano di far ripartire l'economia e per me che sono ignorante di economia questo concetto di economia equivale al concetto di cancro non esiste un altro ecco cosa vuoi che ti dica osservo quindi per me il partito pirata cosa vuol dire il partito pirata vuol dire rispondere a necessità che sono antiche fondamentalmente tutto il gioco sta in un riequilibrio perché noi stiamo subendo la dittatura del pensiero unico economico sotto le sue più svariate incarnazioni quindi bisogna riequilibrare le necessità della gente che vedo normalmente disprezzata e capisco perché la gente non voglia più farsi delegare da nessuno me per primo due volte che non vado a votare non mi beccano più punto allora scusate ma quanto tempo Arturo è tra sei minuti ah fantastico scusate un attimo ma cortesia però perché se no si crea rumore non aiutiamo a capire cioè noi siamo davvero in una terra nuova o ci mettiamo a sperimentare a provare io spero di riuscire a far partire presto un mio progetto personale perché mia moglie mi dice sempre poi tu la devi piantare di fondare partiti associazioni fa l'idealista la pappa ma il progetto musicale che voglio adesso mettere in piedi cercherà di utilizzare tutti questi paradigmi che girano no nella nostra funzionerà non lo so voglio provarlo però e poi vedremo allora innanzitutto magari poi mi riprendo un altro cappello come partito pirata vi porto i saluti di Atos Gualazzi di Alessandro Bottoni Daniele Masini Claudio Brovelli e me stesso allora adesso si parla molto di partito pirata diciamo che è caldo l'argomento ma però forse nessuno sa noi siamo stati i secondi dopo gli svedesi perché nascevamo da una realtà preesistente cioè quando nel 2004 2005 adesso non ricordo diciamo che il nostro partito pirata almeno è stato messo in rete il programma il 12 ottobre del 2006 allora quando è uscita la tecnologia dei DRM quando è uscita la tecnologia del test computing diciamo che persone attivisti in rete io dal 68 che meno le mani poi non pretendo di restare come ero nel 68 perché è come se io pretendessi di continuare a stare col mio primo amore e continuassi ad avere quello in testa diciamo che giustizia sociale eccetera tutti questi concetti sono dei concetti che attengono le necessità primarie dell'uomo e devono subire incarnazioni diverse nel tempo non ci trovo nulla di scandaloso capito allora quando uscirono queste tecnologie liberticide chiaramente che spostavano pesantemente i termini della questione nei confronti diciamo dei produttori si è costituito in rete un gruppo di cui c'è ancora Wiki che è all'indirizzo no 1984 punto org ecco e fu fatto un lavoro di informazione soprattutto dietro le quinte con i giornalisti e con quant'altro no ecco per cui questa è stata una battaglia vinta non solo da noi perché adesso di queste cose si parla ma in termini molto molto diversi per cui noi eravamo concettualmente pronti poi diciamo che nessuno di noi aveva in testa poi di fondare un vero e proprio partito nel senso che la questione del partito è avvenuta con le elezioni svedesi no però nella nostra idea c'era più quella di movimento questo è un dibattito attuale che abbiamo abbiamo un direttivo domenica prossima nel quale vedremo anche queste cose allora il programma no 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 guarda non lo so perché io mi occupo dei rapporti io sono mi occupo dei rapporti con l'accademia sì sì quindi sono sono cioè io quello che riguarda poi burocrazia queste cose qualche cosa che cioè sono musicista prima ancora un ribelle geneticamente allora scusate un attimino allora allora quindi io vi leggo un attimino i punti poi ho chiesto alla nostra gentile hostess di fotocopiarli qui incomincia con un principio di legalità c'è una facciata e poi ci sarebbe da discutere su questo però una delle critiche che abbiamo avuto allora l'Italia è un paese diverso da tutti gli altri perché le parole le cose sono sempre un significato locale diverso per cui continuiamo ma perché è parito dei pirati di su di giù di sopra di sotto adesso c'è un movimento che è globale e mondiale in Canada l'ha fondato tre giorni fa dobbiamo tenere questo nome ma per forza bisogna che parli di modifiche poi la riforma del copyright è fondamentale quindi la riforma del brevetto la riforma del trademag la riforma del segreto induttiale diritto di accesso alla tecnologia diritto di accesso alla cultura diritto ad una fornitura leale diritto alla libertà di scelte e di azione alla privacy diritto alla comunicazione e diritto all'espressione allora i contenuti precisi di questo li potete leggere però il senso è quello del riequilibrio è quello di una revisione allora nel mio cappello di docente vedo lo schifo che fa lo Stato non pretendo gli insegnanti preparati però io devo recuperare l'amico che se compro un computer mi scarichi lì va sono stato responsabile delle tecnologie digitali al conservatorio di Milano e ho visto un po' anche a livello nazionale il disastro che è anche lì ragionano in termini di mercato ragazzi ma una società dove anche i cosiddetti compagni ragionano in termini di mercato dove pensate che vada eh guardate che si è già fermata quando voi sentite che ci sono tutti questi precari nel mondo dell'università che sono su progetti di importanza strategica e fra tre anni questi non hanno più un contratto e il progetto va avanti che succede? quindi l'invito che io faccio uno vabbè a leggere il programma del partito pirata poi chi ha voglia di darsi da fare con noi ne parliamo l'altra cosa è rivisitate le vostre teste toglietevi l'inglese innanzitutto ecco perché è una forma di colonizzazione intellettuale e incominciate a ragionare con le categorie eterne dell'uomo e vediamo che farci oggi grazie 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 Francesco Potortì per l'associazione software libero e di seguito Andrea Marchetti parlo in veste del ricercatore CNR che si è sempre interessato ai software libero e poi di rappresentante per l'occasione dell'associazione software libero torno per un attimo sotto il cofano riprendendo le parole di Maria Pini per ricordare che internet è stata la culla del software libero e il software libero è stato probabilmente una delle concause che hanno portato all'esplosiva diffusione della rete in seguito delle applicazioni che girano sulla rete e alla conseguente importanza sociale che la rete ha assunto negli ultimi vent'anni già lo stesso protocollo TCP che sta alla bassa della rete ha dovuto buona parte del suo successo oltre che alle sue vantaggi tecnici alla possibilità di essere facilmente copiato usato modificato redistribuito buona parte del tutto praticamente lo studio e l'attività scientifica di ricerca e di promozione e sperimentazione che si è effettuata sulla rete è stata fatta su copie libere dell'implementazione del TCP praticamente tutte le implementazioni che attualmente esistono sono basate su queste implementazioni libere non solo la struttura stessa della rete a partire dai servizi di risoluzione dei nomi a dominio i servizi web i servizi quelli più recenti del web 2 sono buona parte basati su tecnologie libere cosa significa questo significa che c'è un substrato fondamentale di libertà che ha contribuito sicuramente alla grande possibilità attuale di scelta cioè non c'è una singola o poche singole soluzioni proprietarie ma queste soluzioni proprietarie hanno la concorrenza fortissima e in quasi tutte le applicazioni che vi ho citato vincente delle applicazioni libere perché è importante una base libera per queste applicazioni perché il software come è stato detto e come è evidente a tutti i presenti influenza anche il modo di pensare il chi di oggi chi oggi facendo una presentazione non usa una strutturazione appunti come quella prodotta a powerpoint pochissimi e questo è uno già giusto un esempio eclatante di come il software di come il mezzo influenza il pensiero così come l'uso della matita sanguigna o dei colori a olio che sono puramente dei mezzi ha influenza sull'espressione artistica così l'uso di un programma o di un altro ha influenza sull'espressione del pensiero per cui il successo del software libero va riconosciuto e preservato è importante mantenere libero il software perché la rete continua a essere libera perché la rete continua a essere uno strumento di cultura e il software libero va incoraggiato e gestito nella culla della cultura che è la scuola a questo proposito cito una recente iniziativa dell'associazione software libero che è intervenuta come legittimo portatore di interesse per la diffusione del software libero nel protocollo di intesa del ministero della pubblica amministrazione con Microsoft si tratta di un protocollo di intesa che è senza oneri per lo Stato ma tuttavia che garantisce l'appoggio delle strutture della scuola perché Microsoft possa diffondere una serie di servizi essenzialmente all'interno della scuola benché non ci sia in principio niente di male che il ministero faccia accordi con i grossi produttori di software quello che c'è di male è che li faccia solo con un grosso produttore di software oltretutto senza oltretutto prima di fare degli accordi simili con con i produttori o con i distributori o con comunque i portatori di interesse del software libero ed è per questo che l'associazione software libero si è intervenuta in questa in questo protocollo chiedendo anche un incontro con la pubblica amministrazione e con scusate con il ministro della pubblica amministrazione e un'ultima nota e ricordiamoci anche dell'importanza della libertà dei formati i formati sono importanti perché il usare formati aperti consente un'ampia diffusione e un riutilizzo dei dati e dei prodotti della cultura dell'ingegno limitarsi ai formati proprietari causa la causa prima di quello che viene chiamato il lock-in proprietario cioè della capacità dei fornitori di software proprietario di agganciare l'utente a se stessi perché diventa sempre difficile esportare il proprio prodotto il proprio prodotto culturale espressivo in un altro formato in un altro programma fine dell'occhiata sotto il cofano ricordiamoci che esiste anche questo grazie è stato molto chiaro sintetico semplice Andrea Marchetti buongiorno mi chiamo Andrea Marchetti io sono un informatico essenzialmente il mio intervento sarà un po' fuori dalle righe di quelli che sono stati di altri interventi mi scuso ma sinceramente non lo sapevo ho mandato anche una mail ad Arturo che ha detto no no vedi tranquillo gli ho detto questo è l'intervento non mi ha più risposto quindi lo prendo per un sì che andava bene allora parto con una storia io era chiaro che stavamo all'interno di Governance Forum che non era il farmer's market della domenica ma io ecco anche se la mia logica è stata quella di rappresentare diverse espressioni culture sotto culture che si agitano in rete per portare il proprio punto di vista su questo su questa particolare relazione tra l'internet l'arte e la cultura cercando di intervenire il meno possibile sul vostro modo di rappresentare queste relazioni perché io io ho una mia idea ho scritto qualche articolo di giornale qualche libro nella vita quindi io ce l'ho la mia idea però dovete parlare voi cioè questa era la mia ci tenevo a questa cosa voi dovete quindi sentite il libro di dire quello che vuoi se riesci a focalizzare sul tema noi siamo all'interno di Governance Forum è meglio ma se vuoi noi ti ascoltiamo comunque vabbè sì ora in dieci minuti non so se ce la faccio a focalizzare cioè io mi sono fatto una scaletta per restare nei tempi parto con una storia io eredito una casa eredito mi ritrovo una casa un casolare di campagna e con questa casa mi eredito anche una storia perché questa casa appare su un mappale del 1700 e appare poi in un luogo che sta sta su un confine naturale in quanto questa casa è su una collina sotto la collina c'è un lago che si chiamava lago di Porta e era perché lago di Porta perché c'era una porta proprio medicia che segnava il confine tra il Gran Ducato di Toscana e i Gran Ducati che stavano sopra perché c'è gli appennini c'è questo lago e infine c'è la costa questo era proprio un confine questo confine viene utilizzato dai tedeschi nella nella seconda guerra mondiale quando sono in ritirata lo usano e ci creano la linea gotica che nel 44 45 ferma di alleati per diversi mesi raccolgo varie testimonianze effettivamente sono testimonianze anche abbastanza truccolente perché sembra che quando dopo che ci fu l'ultimo attacco lungo questa collina era piena di soldati neri che erano stati prima ammazzati e poi derubati dalla popolazione locale perché avevano bisogno di soldi insomma avevano bisogno di sopravvivere ora è secondario il fatto che io questa casa era una casa che volevo in qualche maniera ristrutturare però se appariva sul mappale del 1700 era vincolata io dovevo dimostrare che era stata bombardata perché non aveva più nessun valore culturale io per ottenere questo cosa faccio cerco un po' su internet se esistevano delle testimonianze di questi bombardamenti e mi incappo in un archivio che sta all'ICCD di Roma un archivio di foto aeree foto aeree che coprono ho scoperto l'Italia dal 1900 ad oggi per inciso foto aeree vuol dire non foto fatte dall'aereo perché gli aerei appaiono nel 1915 ma foto aeree perché anche dal 1900 con la mongolfiera salivano in alto e prendevano queste foto foto che l'ICCD ha raccolto per interessi archeologici perché dall'alto uno riesce a cogliere moltissimo del territorio e capire se magari esistevano dei siti vabbè continua la storia questa ICCD ha 5 milioni di queste foto ha queste foto che stanno deturpando si stanno rovinando quindi un patrimonio culturale incredibile che si sta andando a vabbè diciamo un termine si sta perdendo e quindi urge un intervento cioè io sono un informatico ma perché non le digitalizziamo perché non le digitalizziamo costa troppo non ce l'abbiamo messo fondi è vero lo Stato dovrebbe pagare perché permette le disposizioni tutti allora io mi chiedo ma un problema come questo può diventare un'opportunità internet mi può offrire una svalvola una valvola dove posso in qualche maniera creare io allora parto dalla mia esperienza io rivedere queste foto mi ha creato una forte emotività perché poi mi sono mosso e sono andato a vedere altre foto dei miei posti ho ritrovato che esisteva una ciminiera di 15 metri di cui mi parlava il padre e lì l'ho rivista l'ho rivista poi con delle tecniche informatiche uno siccome queste foto fatte dagli aerei da soprattutto sono foto della della RAF dimmi quando manca ho superato i 5 minuti quando foto della RAF erano fatte molto bene con camere molto buone le facevano con una tecnologia per cui una foto dopo l'altra volavano sopra una strisciata ogni foto copriva i due terzi della foto precedente questo vuol dire che a livello informatico io posso ricreare tridimensionalmente le strutture sottostanti e beh questo qui insomma a me ha creato tante emozioni la mia domanda è internet il social web mette a disposizione la possibilità di raccogliere un po' tutte queste date le mie emozioni di fronte a una mappa del 1700 di fronte a queste foto del 1940 di fronte alle testimonianze che ho raccolto farebbe bello poterle raccogliere e mettere a disposizione di tutto con queste tecniche di condivisione posso a questo punto metterle a disposizione a questo punto della platea di internet allora le mie emozioni possono essere divulgate e qui io mi rendo conto no forse ce la faccio bene in tempo mi rendo conto che i miei limiti sono fortissimi che io sono informatico conosco le tecnologie e quindi di fronte a una platea e quindi io sentivo il bisogno di confrontarmi con gente che invece studia sociologia psicologia studia un po' tutte queste problematiche allora quando uno studia ora a livello di web io faccio parte di un gruppo di applicazioni avanzate di web vabbè avanzate perché uno non può dirsi applicazioni retrograde di web quindi nel web ora sta nascendo una la concezione che il modo di sviluppare applicazioni non può essere più quello di una volta noi facciamo l'applicazione a livello locale proviamo possiamo vedere se tramite dei test se la gente reagisce quello che sarà poi a livello macro cioè a livello di internet può essere tutta un'altra può avere tutto un altro risultato quindi abbiamo bisogno a questo punto proprio di avere una contaminazione un remix con gente di altre discipline quindi la multidisciplina di età non è più una cosa che va di moda ma è una necessità a me piacerebbe proprio creare una macchina che mi permetta di tornare indietro nel tempo quindi quello che diceva Luciana Castellina la geografia io mi trovo d'accordo cioè per me Google Earth è stata una bellissima scoperta poter creare un Google Earth temporale quindi se volete una specie di macchina del tempo che è il sogno secondo me di molti specie quando si va avanti negli anni di poter tornare nel tempo e rivedere quello che erano i racconti delle nostre persone mi piacerebbe molto allora l'iniziativa per noi sta partendo probabilmente avremo dei finanziamenti però bisogna vedere quello che sarà il risultato quindi quindi va beh niente ecco questa era la mia esperienza l'ho concludo qua mi piace più che altro la possibilità di conoscere nuove persone conoscere insomma interagire con un mondo che per me è lontano io ho interagito per esempio con la stampa semplicemente perché avevo pubblicato un articolo su una mia notizia su un articolo è stata ripresa da vari giornali sulla radio anche la stampa mi ha ripreso senza però venire a chiedermi perché cosa c'era dietro comunque sembra che sia diventato il creatore di una bussola del web non era questa la mia intenzione grazie Andrea l'ultimo intervento sono arrivati i componenti del team di Roma Europa Fake Factory a questo punto io non so se intervenite entrambi sotto lo stesso cappello o siete artist open source intervenite insieme che risparmiamo tempo presentatevi molto velocemente senza che lo faccio io si si è da una mitella si no vabbè io faccio bisogna usare per forza il microfono io ho i microfoni se parli nel microfono verrà registrato quello che dice ah come no allora parliamo nel microfono come no allora mi siedo allora buongiorno noi siamo arrivati con un po' di ritardo perché abbiamo avuto degli enormi problemi con l'editoria classica quindi proprio quindi ieri dovevamo venire ieri in realtà non possiamo venire oggi diciamo veniamo in in più di una veste quindi ci dividiamo un po' questi compiti io presento rapidamente quella cosa che si chiama artist open source e poi Oriana Persico presenterà il Roma Europa Fake Factory allora artist open source è un luogo che riunisce grazie grazie alle tecnologie quindi grazie insomma alla possibilità di stabilire rapporti tra persone in diversi luoghi e tempi riunisce insomma una serie di forze di persone che fanno delle cose molto particolari ovvero ragionare sullo scenario tecnologico e sociale che viene creato dalla tecnologia e un pochino inventare cose particolari su diverse tecnologie che adesso vi andrò a disporre rapidamente per per studiare per osservare etnograficamente quello che avviene sul sul web nella società in questa società che diventa ibrida tra ambiti che sono analogici e ambiti che sono digitali quindi noi rileviamo il fatto che ormai è strano parlare di società non digitale perché adesso è sovrapposto il dominio digitale a quello a cui eravamo abituati pochi anni fa ovvero il mondo analogico adesso non esiste più il mondo analogico quindi da questa considerazione che il mondo è cambiato integrando profondamente dimensioni digitali noi ragioniamo etnograficamente e cosa facciamo prendiamo sistematicamente delle tecnologie piuttosto che delle pratiche che emergono da questa nuova forma di persone di luoghi di spazi che si creano e facciamo in realtà un po' di macello perché in realtà quello che emerge da questa analisi etnografica è il fatto che ci sono diversi approcci a questo cambiamento alcuni approcci sono un po' confusi alcuni approcci sono in realtà degli approcci politici che si astentano a riunirsi a questo cambiamento alcuni approcci sono di tipo esplorativo e sono molto belli cosa facciamo noi quindi facciamo facciamo delle azioni facciamo delle azioni che vanno a incidere su una serie di ambiti adesso Oriana ve ne racconterà una che si chiama Roma Europa Fake Factory che è un concorso che abbiamo tirato su io ve ne racconto rapidamente un paio per esempio un sistema che abbiamo fatto due anni fa che si chiamava Google Why Bother che era un sistema che prendeva in considerazione i motori di ricerca quindi i motori di ricerca noi facciamo delle ricerche su questi motori di ricerca e questi ci danno dei risultati dei risultati che vengono presentati e tutti hanno la percezione che bello Google mi ha dato queste informazioni quando io ho cercato questa cosa che mi interessava quindi c'è questa percezione strana di questi risultati che sono la cosa migliore che possiamo ottenere per quelle cose che ci interessano e che cerchiamo in realtà per esempio Google come altri motori di ricerca non indicizzano tantissime cose quindi in realtà non è detto che ti diano le cose migliori quello che ti restituisce è quello che per Google per le sue strategie per le sue possibilità di memorizzazione di informazioni per la forma dei suoi algoritmi per tutta una serie di motivi è quello che ti propone come risultati migliori ma non è detto che sia quello il risultato migliore quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un motori di ricerca uguale a Google su questo dominio googlewhybother.com tu andavi su questo sito ti trovavi l'interfaccia di Google scrivevi la tua ricerca e venivano fuori dei risultati tanto che quando cercavi di andare col mouse a cliccarli non potevi perché questi si spostavano e quindi in realtà avevi questi link che ti forniva il motore di ricerca inutilizzabili perché non riuscivi a cliccarli e questo diciamo era una metafora di che cosa? del fatto che non è detto che questi oggetti siano sempre utili ovvero è bene approcciarli con una certa dose di critica di analisi critica quindi quello che facciamo è non prendere nulla per scontato sui social network su Google e cercare di tramite pratiche che vanno da queste strane nuove forme nuove neanche tanto ormai di arte che utilizzano le tecnologie in modi un po' particolari facciamo azioni che ci sentiamo di dire propongono delle visioni critiche su diverse cose per esempio se voi adesso andate su Facebook probabilmente alcuni di voi già lo saranno sarete stati invasi da un po' di spam ultimamente perché c'è un esserino digitale che si chiama Angel F che tra l'altro alcuni di voi conoscono già bene che sta preparando una sorpresa per fare un po' di giorni e quindi preparando questa sorpresa sta facendo un po' di spazio spam su internet quindi quello spam scusate se vi arriva già qualcuno di voi è tutto generato da un'intelligenza artificiale che sta facendo un lavoro molto particolare sulla proprietà intellettuale e sulla possibilità di definire identità che siano reali quindi tutto un ragionamento sull'identità quindi quello che fa Artis Open Source è prendere sistematicamente delle tecnologie e delle pratiche che emergono dall'uso delle tecnologie e in qualche modo guardarle sotto sopra riportarle in più di un modo per proporre una visione critica una visione critica che noi usiamo in molti modi che vanno da quello che è l'ambito più artistico ma fino all'idea che l'arte in questo senso sia molto cambiata ultimamente quindi che possa offrire suggerimenti molto interessanti a chi prende decisioni politiche a chi prende decisioni imprenditoriali eccetera 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 perché l'arte in questo senso è molto differente da quello che era il quadro appeso sul muro come tanti pensano che sia interpretabile l'arte è invece uno strumento molto potente per creare affermazioni molto forti come per esempio quella che adesso ci andrà a raccontare Oriana Roma Europa Fake Factory intanto se non mi sbaglio i cinesi abbiamo avuto un'esperienza interessata con i cinesi su Google Why Bother il motore di ricerca il motore di ricerca di Google Why Bother è successa una cosa molto strana ovvero si vede che alcune persone in Cina avevano dei siti filtrati o dei contenuti filtrati sulle ricerche che cosa facevano andavano su Google Why Bother disabilitavano JavaScript e lo usavano come motore di ricerca perché non era filtrato tant'è vero che per tipo quattro mesi ci hanno avuto una cipra di visite su questo sito perché si vede che avevano scoperto che lo potevano utilizzare come motore di ricerca non filtrato quindi per dire a parte i messaggi intenzionali veicolati con un'operazione così strana come potrebbe essere il creare un motore di ricerca inutilizzabile in realtà ci sono stati anche una serie di effetti collaterali quindi questo a corollario del fatto che si possono creare affermazioni molto interessanti esatto anche se io avevo paura che a un certo punto arrivasse qualcuno speriamo che smettano perché comunque vabbè invece Roma Europa Fake Factory Roma Europa Fake Factory forse lo conoscete pure questo concorso è nato a gennaio di questo anno ed è tra l'altro una non so se vi ricordate la degradarte del gennaio del 2008 questa diciamo è stata una versione potenziata di questa esperienza che riguarda principalmente due ambiti la proprietà intellettuale da un lato e dall'altro i modelli di accesso alla cultura per cui che cosa è successo la fondazione Roma Europa e Telecom Italia hanno indetto un concorso rivolto ai giovani creativi o comunque alla creatività digitale ma in questo concorso sono state rilevate due anomalie molto grosse allora la prima è che gli artisti venivano costretti tramite il disclaimer legale a cedere in toto tutta la proprietà intellettuale sulle opere anche se non vincevano fondamentalmente per cui una volta che uno aveva inserito la propria opera all'interno di questo di questo database del concorso aveva perso tutti i diritti di utilizzazione e loro li potevano utilizzare per tutti i comodi loro quindi non solo per cose riferite al concorso l'altra cosa era che trattandosi di creatività digitale c'era un'altra clausola particolarmente bizzarra dove si diceva che non potevano essere inserite delle opere presentate delle opere che facessero uso di remix e di mashup che sono praticamente le due tecniche che vengono sono alla base di tutto quello di quasi dell'80 del 90% di tutto quello che uno può fare attraverso il digitale e fa sul web costantemente allora il percorso da subito che cosa è successo Salvatore ha comprato immediatamente il dominio romeuropa.org che evidentemente questi grandi soggetti non sono così avveduti per cui noi abbiamo subito preso abbiamo due ore dopo abbiamo preso questo dominio e l'idea è stata subito sì ma i lienni invisibili sono anche romeuropa fake factory perché l'altro pezzo della cosa è che romeuropa fake factory è stata un'esperienza che in circa due mesi ha raccolto 80 partner in tutto il mondo dall'Europa dal Brasile dall'America per cui è stata anche un'esperienza di networking globale reale quindi delle adesioni che ci hanno stupito a un certo punto arrivavano loro possiamo essere partner venite non vi preoccupate facciamo è stato un ballista di partner gigantesco quindi l'idea è stata di creare un concorso che forse la versione fake ma anche deturnata è quindi completamente rivoltata quindi è come quello che si fa con le tecnologie reverse engineering di una tecnologia così si è applicato all'idea di questo concorso per cui preso il dominio e quindi scottato il dominio prese tutte le anche le parti estetiche con un consulto di tre avvocati che li nominiamo perché comunque ci sono stati vicini Marco Scialdone che tra l'altro ha fatto si è impegnato in qualità ormai di legale ufficiale e che tra l'altro purtroppo non è potuto essere qua oggi dell'esperienza no lo sappiamo questo era precedente le avevamo chiesto era una cosa non era una cosa personale quindi lui ha fatto anche la versione la versione al contrario del disclaimer regale originale per cui il concorso consisteva poi nel chiedere alle persone ah scusa Guido Scorza e Melica anche che tra l'altro tutti hanno detto ok così potete farlo non vi possono assolutamente in nessun modo per ora per ora non vi possono non vi possono attaccare insomma e quello che abbiamo chiesto quindi poi agli artisti era di creare delle opere che fossero proprio tutte incentrate sull'uso del remix e del mashup in più sulle tre categorie standard perché là si parlava di letteratura si parlava di musica si parlava di video e poi c'era un'altra che era spot noi abbiamo sostituito questa quarta sezione con una idea molto carina che è la low art ovvero l'arte del remix legale trasformare gli avvocati e quindi chiamare gli avvocati in causa facendoli diventare una sorta di dj letterario per cui gli chiedevamo di prendere tutti i testi che riguardassero la proprietà intellettuale esistenti quindi nelle varie legislazioni farne dei remix e creare o delle opere molto brutte quindi oppure delle opere molto belle per cui questa era la versione originale del concorso poi si sono unite altre due sezioni nel diciamo il concorso ci ha avuto una copertura mediatica siamo finiti sull'espresso abbiamo fatto poi un totto di alcune c'è stato un lancio anche fisico nel mondo reale per cui a marzo siamo andati a presentare questa questa iniziativa al senato sono venute addirittura sempre spontaneamente persone pure dall'Olanda da Vienna della gente insomma dove si affrontavano e mi sono dimenticata di dire una cosa tutto questo è partito prima con una lettera aperta indirizzata alla fondazione Roma Europa e a Telecom dove gli si chiedeva conto quindi una lettera prima ancora del concorso perché ci è voluto un po' di tempo per metterlo in piedi no no un attimo questo poi è un altro pezzo del discorso perché diciamo lì abbiamo chiesto come mai una fondazione che si occupa di arte contemporanea fa delle affermazioni culturali come l'impossibilità di utilizzare remix tagliando fuori Barrox per esempio noi per esempio abbiamo avuto originali e tra l'altro la cosa carina è che loro dicevano noi ci riserviamo il diritto di fare il mashup e il remix delle opere c'era scritto vogliono fare le sonerie c'era veramente proprio scritto così tra l'altro una fondazione culturale a livello internazionale che nega tutto il novecento e gli abbiamo scritto proprio questo avete negato in un modo in un modo bello in un modo non oppositivo e tra l'altro la nostra idea non solo no ma infatti abbiamo fatto tre video tre video che sono i rejected uno con William Barrows uno con Andy Warhol e uno con Orson Welles che erano i rejected del Roma Europa Web Factory c'erano loro che dicevano io non posso partecipare cioè alla fine cosa è reale perché allora che succede dopo questo primo dopo questo primo evento tra l'altro la fondazione Roma Europa noi volevamo invitarli ma non abbiamo avuto tempo ci siamo dimenticati ci sono presentati e gli abbiamo gli abbiamo dato spazio per parlare dopo qualche giorno e tra l'altro hanno detto si stiamo venendo a imparare ok dopo qualche giorno sul sito della fondazione è venuta fuori una prima pagina dove si diceva che avevano fatto un passo indietro piccolo sulla proprietà intellettuale ovvero dicevano sì hanno fatto questo piccolo passo indietro poi diciamo siccome ho un minuto vi dico brevemente questa cosa uno che è stata presentata il 16 settembre la nuova versione di Web Factory 2009 2010 della fondazione Web Factory noi siamo fake allora in questa loro hanno adottato le Creative Commons per cui ufficialmente questo primo passo che è di passo indietro sulla proprietà intellettuale si è concretizzato nel fatto proprio esplicito di utilizzare le Creative Commons e di lasciare tutta la libertà agli autori hanno iniziato a promuovere il remix e il mashup anche proprio è proprio un pezzo del concorso si richiede espressamente agli artisti di utilizzare queste tecniche infatti sembra il fake factory dell'anno scorso se non che infatti qua si entra no allora su questo si entra in un pezzo che forse poi sì forse poi ne possiamo parlare anche in modo più approfondito perché riguarda poi ok questa è una vittoria per chi e per cosa ovvero è una realtà corporate i virus in un organismo di solito non ammazzano vengono aggregati vengono integrati in qualche modo questo è un esempio di queste dinamiche tra una realtà corporate e una realtà che comunque viene autogestita eccetera tra l'altro in questo momento noi siamo stati citati perché eravamo presenti abbiamo presidiato lì insomma eravamo lì presenti siamo stati citati tre volte perché comunque parlare in senso astratto della rete vuol dire negare il processo reale quindi negare i soggetti che sono stati invece gli attori del cambiamento cosa che è quella la strategia che hanno utilizzato con noi con questa esperienza anche se lì fisica lì per esempio sul sito non c'è nessun riferimento all'esperienza se non una citazione generica del fatto che abbiamo ascoltato la rete allora questo non vuol dire veramente niente e quindi diciamo quindi noi abbiamo preso questa e tra l'altro uno dei nostri partner che è Beatpik è stato a fare la stessa cosa che faceva l'hanno preso l'hanno sussunto questa è proprio invece è una espressa tattica di sussunzione di un pezzo organico di quello che c'è nel mondo vivo ok e l'ultima cosa è che invece noi adesso quest'anno stiamo per aprire e stiamo contenti di presentarlo oggi insieme a Scambio Etico il REF apre una sezione speciale del concorso dedicata alla net neutrality ovvero cerchiamo di sostenere la campagna in corso su tutto il problema della net neutralità che insomma viene messa in crisi lo sapete meglio di me in questo momento e quindi insieme a Scambio Etico stiamo immaginando questo nuovo pezzo del concorso per creare andando a disposizione il REF come piattaforma dove cercare di chiedere ai creativi soprattutto l'idea è quella di far arrivare delle campagne di sensibilizzazione sui cinque punti che riguardano la net neutralità su cui si sta muovendo insomma l'Europa basta grazie 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 allora in realtà sono le undici e dovrebbe cominciare la sessione se c'è qualcuno che ha proprio urgenza di dire qualcosa io un minuto glielo do cioè non vorrei allora vi antichi non adesso per favore Simone chiudiamo questa cosa qua aspetta che no 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 diciamo questa cosa io devo andare a riportare in sala quelle cose che ci siamo dette allora chiaramente per cercare di far combaciare per riassumere le cose molte e diverse che avete dette devo trovare una formula mi sembra che l'elemento che contraddistinto tutti quanti i vostri interventi è che la cultura è un bene comune e internet è un bene comune cioè la cultura è un bene comune da tutelare valorizzare sostenere eccetera internet è un bene comune proprio come veicolo di cultura e come strumento di produzione e diffusione di cultura cultura informatica cultura legislativa e così via cultura è uno strumento inoltre che gli artisti sembra che apprezzano particolarmente come tool per raccontare delle dimensioni alternative della quotidianità come strumento per la critica sociale come strumento per la e come tale uno strumento che va difeso per le sue peculiarità appunto per quello che permette di fare in termini di critica della società io le cose che mi sono sottolineato mi sono piaciute moltissimo le cose che ha detto Anna Masera a proposito di come internet sta modificando il giornalismo e le dinamiche che ha innescato è stato molto interessante vorrei ripetere questo dato che Aliprandi sottolineava di uno scollamento tra la realtà quotidiana dei comportamenti concreti delle persone e il dato normativo perché ci porta alla questione che quando il comportamento delle persone è tanto difforme dalle leggi forse è ora di cambiare le leggi perché le leggi sarebbero l'espressione della volontà popolare molto interessante molto complesso da ricostruire il discorso che faceva Luciana Castellina però che metteva insieme queste due polarità da una parte con internet c'è una perdita del senso dello spazio del senso dell'identità della collettività dell'appartenenza a un gruppo e insomma questo eccessivo individualismo dall'altra parte internet è anche economia del dono della cultura della reciprocità della cultura della condivisione quindi processi momenti che convivono insieme in rete e rispetto ai quali forse si potrebbe elaborare una riflessione più approfondita andando a studiare dei casi concreti qualcuno di voi l'ha suggerito mi pare Simona Liprandi suggeriva di fare uno studio specifico sui comportamenti per sapere dalla gente perché accadono certe cose ti segnalo che la fondazione di Naudi ha già fatto quella ricerca che tu presupponi forse trovi del materiale interessante lì Tommaso Tozzi in particolare ha ribadito un concetto che conosciamo da tempo che è stato un po' un concetto seminale nella cultura digitale italiana che l'accesso alla rete deve essere libero e gratuito e che la libertà di copia di diffusione dovrebbe essere una cosa pacifica rispetto ai prodotti della cultura e soprattutto ai prodotti che in qualche modo sono direttamente o indirettamente finanziati dai cittadini e quindi dallo Stato e un riferimento importante che faceva alla costruzione di una comunità planetaria attraverso le tecnologie un'utopia che era di altri prima di noi ma che è ancora quella di tanti di noi oggi per quanto riguarda le lienze invisibili mi pare che abbiano ribadito l'importanza di poter utilizzare internet come strumento di critica sociale e politica ribadendo l'importanza della società democratica del diritto di critica del diritto di satria del diritto alla libera espressione diritti che sono in pericolo a causa dei comportamenti esagerati forse sia dei legislatori che di politici ipersensibili loro hanno avuto una vicenda giudiziaria particolare che si è conclusa felicemente però mentre joan maria pini ha ribadito l'importanza di una cultura della rete che è di una rete che rifiuti i digital rights management e il trusted computing che sono tecnologie liberticide ribadendo l'importanza primaria della cultura della diffusione di cultura per la costruzione della società e delle relazioni fra le persone francesco potorti ha detto un'altra cosa che secondo me è centrale che il software libero è una garanzia di libertà per l'arte e la diffusione della cultura è chiaro che ha fatto un discorso più complesso insomma internet è la culla del software libero il software libero permette oggi a tutti quanti di usare internet più facilmente il web 2.0 per capirci il software è comunque un artefatto cognitivo che influenza il modo di pensare quindi se il software libero probabilmente aiuta le persone a costruire schemi di pensiero comportamenti liberi e così via l'importanza di mantenere libero il software per mantenere libera la rete e favorire i comportamenti liberi delle persone insomma non c'è da dire più di tanto Andrea Marchetti io quello che ho ricavato dal discorso di Andrea Marchetti è che bisogna forse porsi il problema di come favorire la digitalizzazione del patrimonio culturale nel suo caso il patrimonio fotografico e quindi immaginare anche degli interventi di carattere legislativo o immaginare un'auto-organizzazione che favorisca questo processo Salvatore Iaconesi Oriana Persico mi pare che abbiano rappresentato anche loro una visione critica dell'arte che attraverso le reti può allargare la sua sfera di influenza determinare una nuova consapevolezza nelle persone e magari aiutare anche decision maker a evitare gli errori che spesso Oriana Persico ha insistito molto sulla creatività digitale che è un elemento cioè che la cui stessa esistenza rappresenta una fortissima critica al copyright cioè mi sembra aver capito che ribadire l'importanza della creatività digitale ci pone il problema di verificare se le leggi a tutela della cosiddetta proprietà intellettuale sono adeguate o meno a favorire la creatività non mi guardare così io questo ho capito da quello che va bene va bene poi quindi io siccome non voglio mettere nessun cappello su questa cosa alcuni di voi li ho invitati altri si sono autoinvitati e sono venuti io non voglio portare lì una idea preconcetta e preconfezionata quindi dirò un po' di queste cose spero che vadano bene a tutti ovviamente avremo tempo per elaborarle ognuno potrà appigliare il suo intervento credo che già abbia demandato l'ABSA mandarlo agli organizzatori se volete potremmo creare un documento insieme io mi fermo qui grazie di tutto andiamo in assemblea